Dall'Europa Liga le ATP Finals di fine stagione, passando per gli internazionali di tennis, gli europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, senza dimenticare il grande ciclismo con giro e tour e naturalmente i giochi olimpici e paraolimpici di Parigi 2024. Una stagione di sport a 360 gradi per la RAI che ha presentato il nuovo palinsesto sportivo. Per l'amministratore delegato Roberto Sergio, la presenza della RAI è importante per certificare l'importanza del valore dello sport, concetto ribadito anche dal direttore di RAI Sport, Jacopo Volpi. Un'importanza enorme che veramente sono stati fatti dei passi in avanti eccezionali, quest'anno anche in un periodo abbastanza complesso per tutto il paese sono stati fatti degli acquisti che veramente ci rendono orgogliosi, avevamo già l'Olimpiade, avevamo i campionati europei di calcio con 31 partite, però tornare a trasmettere in diretta l'internazionale di tennis di Roma in questo momento in cui il tennis italiano sta andando veramente bene a livello mondiale e poi il grande ciclismo, il Giro, il Tour de France, Olimpiadi, Paralimpiadi ma la cosa molto importante è che è stato fatto questo acquisto dell'Europa League, quattro partite, forse cinque, se ci sarà un'italiana in finale credo che sia veramente un gran bel momento per lo sport della RAI, servizio pubblico gratis.